Oggi vaccini in Cittadella un appello agli studenti ma non solo per aumentare il numero di vaccinati e portarci sempre più vicini a uscire dalla pandemia. Presidente, che diciamo a questi studenti? Io spero che questa giornata porti numerosi studenti e soprattutto anche le famiglie a vaccinarsi perché in questo momento particolare della nostra vita stiamo affrontando veramente un momento difficile e quindi credo che bisogna uscirne prima o poi. Questa è l'occasione con l'università, il commissario estero ordinario si è pensato di coinvolgere chiaramente la cittadella universitaria per propagare questo vaccino, allargarlo a tutti cercare di coinvolgere il più gente possibile all'interno chiaramente degli studenti, dei docenti e di tutti gli utenti che frequentano la cittadella per le attività sportive perché è importante anche proteggerci. Perché giusto in cittadella a pieno regime passano migliaia di persone ogni mese tra insegnanti, dipendenti, studenti e i tanti utenti delle palestre e delle piscine? Certo, adesso cerchiamo di entrare un po' nel vivo dell'attività sportiva e ci auguriamo che ci sia di nuovo tanta gente che possa frequentare le palestre e le piscine e che si dia appunto questa possibilità anche perché è obbligatorio nelle strutture al coperto necessita chiaramente il green pass e quindi da qui questa iniziativa a mio avviso che deve essere promossa e che anzi forse ce ne dovrebbero essere di più.